buongiorno carissime e carissimi cittadini e cittadini siamo all'interno del cortile del galoppatore ale coperto della nostra reggia per presentarvi un evento molto bello e molto significativo che si terrà il 29 settembre il 30 settembre il primo ottobre all'interno del galoppatore ale coperto e nel cortile del galoppatore stiamo parlando di fermenti reali una vera e propria festa della birra un simposio della birra artigianale dove si potrà accedere comprando un biglietto ci saranno tanti birrifici artigianali che verranno da tutte le parti della campania e si articolerà attraverso un vero e proprio programma che prevede masterclass che prevede degustazioni che prevede spiegazioni scientifiche una vera e propria festa della birra con un simposio che si terrà all'interno di questo luogo che vedete il galoppatore ale coperto con delle capriate stupende una location particolarmente suggestiva storica fascinosa e questo nasce da un'idea di un nostro consigliere comunale Dario Formicola e del nostro direttore dell'evento Alfonso allora Alfonso partiamo da te come funzionerà che cos'è un simposio della birra artigianale che significa che si fa che cosa faremo oltre a bere birra berremo la birra con uno spirito di convivialità come il simposio il simposio è l'atto finale per esempio di una cena di un incontro dove tutti si riuniscono per poter condividere il piacere di quello che viene offerto perfetto quindi è una vera e propria festa della birra a cui partecipa una comunità assolutamente allora spieghiamo bene ai cittadini io compro un biglietto per venire qua Dario paga 8 euro dopodiché che cosa succede con questi che cosa mi dà l'organizzazione per accedere qua e che cosa si fa con il biglietto di accesso il ticket d'ingresso costerà 8 euro e ti darà diritto ad avere quattro gettoni ogni gettone ha il valore di un euro con cui si potranno comprare cibo e birra orientativamente con quattro gettoni da un euro si potrà prendere una birra grande o una mezza birra una mezza pinta e oppure l'alternativa è quella di prendere magari il food visto che abbiamo previsto anche degli stand di food oltre al cibo senza glutine e birre senza glutine quindi anche per le persone che hanno delle intolleranze per i celiaci è previsto gluten free giusto si gluten free abbiamo detto che abbiamo invitato il mondo senza glutine e alfonso che è il presidente di union birrai e celiaco abbiamo deciso caro Dario che tutto il ricavato della vendita dei biglietti tolte le spese saranno devolute in borse di studio che faremo agli studenti di agraria gli studenti delle scuole superiori che decideranno di iscriversi agli indirizzi scientifici e accademici didattici dell'agraria allora siamo pronti 29 29 settembre 30 settembre 1 ottobre simposio festa della birra a portici all'interno del galoppatore siamo pronti per fare il nostro brindisi ecco qua buona birra a tutti vi aspettiamo al galoppatore alle coperto talon del calon Grazie a tutti